Ha deciso di abbandonare quegli scarpini che gli hanno permesso di segnare gol a valanga nei professionisti Serie B e Serie C soprattutto, ma anche nei dilettanti. Adesso Maurizio Nassi ha deciso di ripartire dal basso, ma come direttore generale del gelacalcio di Cristian Paradiso. Gestirà tutta l'area tecnica di una squadra che riparte dalla seconda categoria. Eppure a 43 anni aveva la possibilità ancora una volta di giocare in promozione, ma ha scelto un nuovo percorso. Ho deciso già da diversi anni di smettere di giocare e di intraprendere un'altra strada. Mi ha chiamato il Presidente Paradiso, mi ha proposto questo incarico del direttore generale di occuparmi di tutta l'area tecnica, che è una cosa che mi piace fare e che ho sempre pensato di fare. avendo smesso di giocare. E c'è un progetto importante, lui è una persona ambiziosa. Stiamo costruendo una rosa competitiva. Faremo il giocatore del girone di seconda categoria, anche se il Presidente aveva mandato una PEC di disponibilità ad un'eventuale prima categoria, qualora non ci fossero squadre. Ma diciamo che il progetto è ambizioso e importante. La seconda categoria l'ha già vissuta da calciatore nel Gela di Mirko Fauciana. Campi in terra battuta, niente assistenti di linea e giocatori dopo lavoristi. Insomma, non proprio il massimo. È stata un'esperienza non positiva, perché è un campionato diverso da quello che io ero abituato a fare. Però diciamo che mi è servita come esperienza. Adesso so di cosa parliamo, di cosa dobbiamo fare. Quindi mi trovo preparato per il futuro. Il calcio gelese si barcamena tra promozione, prima e seconda categoria. Sembrano lontanissimi i fasti del professionismo o della Serie D, quando Nasi segnava ed esultava sotto la curva Angelo Boscaglia, come accade nel 2016, l'anno della promozione dall'eccellenza alla Serie D. Mi dispiace tantissimo vedere più squadre a Gela in categorie che a Gela, sinceramente, stanno molto, molto strette. Eravamo abituati a vedere altri palcoscenici. Però c'è il Gela di Melfa, che si sta attrezzando per fare un ottimo campionato, il Gela FC uguale. E noi, che da una settimana a questa parte, da quando c'è stato il mio insiedimento, abbiamo organizzato e programmato col Presidente Paradiso, che, ripeto, ha tantissima voglia di fare un campionato importante e, perché no, di ambire a portare il Gela Calcio a palcoscenici diversi da quelli che sono adesso. Il Gela Calcio sarà allenato da Daniele Genovese e giocherà allo Stadio Presti il sabato pomeriggio.